Buon pomeriggio a tutti, oggi è lunedì 29 novembre, sono le 14.18 e torniamo un attimo su Cardano. Questa crypto mi fa venire alcuni dubbi. Mediamente, anche se questo è un minimo che dà vita a qualche cosa, nella realtà dei fatti mi piacerebbe un po' capire se la spike è importante, quanto mediamente è invece il corpo, per una partenza di ciclo annuale. Per cui la sto tenendo d'occhio rispetto al solito, sono solo passati tre giorni da quando ho iniziato a fare, anzi da quando ho continuato a fare la seconda analisi su Cardano, e a questo punto ogni nuovo movimento che viene fatto a noi serve per rifare il punto della situazione. Dato che lavoriamo con i volumi e con gli swing, li osserviamo. Non osserviamo soltanto la media mobile, come possono fare mediamente i trader alle prime armi, ma la utilizziamo nell'interno di un contesto, di un metodo ciclico dell'evoluta. Per cui è vero che siamo per andare in death cross e quindi poter spingere verso il basso i corsi e i prezzi di Cardano, ma attenzione, sappiamo anche che qui avrebbero potuto farlo, invece all'ultimo si è ripartiti e si è ritornati a salire. In questo momento stiamo andando a fare una chiusura di annuale per il fatto che con la chiusura del semestrale siamo andati esattamente sulla media mobile a 200 periodi e siamo rimbalzati all'insù, mentre invece con il secondo semestrale che chiude anche un annuale abbiamo traforato la media mobile a 200 periodi, se vi aggiungo un Ishimoku Cloud, vedete che siamo finiti sotto la nuvoletta e che quindi siamo già andati in eccesso di ribasso. Adesso la tolgo perché non funziona benissimo, non mi piace molto su Cardano. Per cui facciamo un attimo il punto della situazione come di consueto. Qui siamo sul secondo semestrale, il secondo semestrale è arrivato da minimo ad oggi a 132 barre su in media quanto ne fa un semestrale? Un semestrale, vi ho messo qua una leggenda, ne fa 128, quindi siamo oltre la durata media e ovviamente la minima. Abbiamo nella sostanza ancora 36 giorni per capire, anzi 36 giorni che ci diranno se si continuerà a scendere o salire. Dalle divergenze vediamo qualcosa di particolare? Ben poco sinceramente, sono tutte convergenze su questo grafico a un giorno. Ricordate sempre che qua vi dice il time frame al quale stiamo osservando che cosa, la cripto o il sottostante in causa. Per cui, che cosa ci dice però quest'ultimo affondo? Ci dice che da questo minimo a questo ci sono 37 barre. Potrebbero esserci ancora 6 barre per scendere, fare un sesto eventualmente ciclo settimanale ribassista, 1, 2, 3, 4, 5 e sesto, oppure si può iniziare a ripartire. Abbiamo la condizione per la chiusura non soltanto del semestrale ma anche dell'annuale? Per chiudere l'annuale, se non ve lo ricordate, fatevi una tabellina ma c'è nella community su Facebook di oltre 1700 trader. Se non lo sapete, per chiudere un ciclo annuale ci vuole un sottociclo di 3 gradi inferiori ribassista, ovvero T più 5 meno 3 gradi inferiori uguale un T meno 2, ovvero un mensile. Questo ciclo mensile ce l'abbiamo, ma non sappiamo se si sia fermata qui la sua discesa oppure se possa continuare perché il tempo, come tempo, è ancora capiente. Come vi dicevo prima, da qui a qui siamo arrivati a 37 barre, potrebbe ancora fare un ciclo che si spegne rapidamente e scende ancora per 6 giorni. Non parlo di raccordi per adesso perché prima voglio vedere che cosa succede, ma do indicazioni molto semplici. ovvero se la candela di oggi chiuderà sopra questo minimo a 1,42 e se successivamente si andasse, prima ovviamente, se possibile, della sesta candela sotto lo stesso minimo a 1,42, valuterei operazioni short per al massimo appunto una durata di quando ci arriveremo meno i 6 giorni che vi dicevo. Anche se, in un'ottica più tranquilla, dato che è possibile che stia partendo, stia per partire un nuovo annuale, il vero suggerimento sarebbe dire attendiamo qualche giorno e vediamo se comunque si scende e poi iniziamo a costruire posizioni long, ovvero acquistare cardano per i prossimi giorni, per la partenza di un nuovo annuale. Ottica di breve, valutazione short con stop strettissimo, sopra il massimo che verrà fatto da questo T settimanale. Ottica conservativa o da odler, comprare se non si supera che cosa? Questo swing a 1,767 che ci dice che invece può partire qualche cosa di nuovo interessante. Quello di controllo in realtà sarà quello a 1,95, ma se già iniziassimo nei prossimi giorni a salire sopra questo, 1,767, ve l'ho segnato qua, c'è una buona possibilità che si inizia a ritrovare la strada per la salita ed era questo di cui volevo parlare. Le due strade, è vero che sono due, ma non è vero che se non sale scende e se non scende sale. È ben diverso il discorso. Io qui vi do un tempo massimo di sei giorni eventualmente per andare short se ci sarà una violazione dopo che questa candela di oggi avrà dimostrato di voler rimanere sopra di questa. Se il terzo giorno, il quarto giorno, il quinto giorno continuerà, cioè sarà già andato sotto questo minimo, so già che al massimo entro il 26... Aspettate. 1, 2, 3, 4. Al massimo terro lo short per fino al 3 di dicembre. Se invece iniziassi a violare questo massimo, indicato qua, lo swing, valuterei di iniziare ad entrare con alcune posizioni long per la partenza di un nuovo annuale, perché la condizione di questo annuale, per la chiusura di questo annuale, c'è già. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Più avanti, nel pomeriggio, arriverà anche l'analisi e l'aggiornamento di Bitcoin, perché abbiamo di nuovo guadagnato grazie al target molto più che raggiunto e all'analisi fatta ieri sera che diceva che si poteva ancora salire per almeno 24 barre complessive d'inverso e così è stato fatto. Non è magia, è ciclica, è evoluta. Anzi, chiamiamola evoluta. Buona giornata a tutti!